salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo parlarvi di un'applicazione secondo me veramente fatta bene semplice ma molto molto precisa e funziona davvero molto bene l'applicazione è un'applicazione per tutti i droni mavic o meglio per tutti i droni dji mavic 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 pro mavic 2 tutta la serie mavic è compatibile con questa applicazione purtroppo l'applicazione è disponibile solo per i dispositivi con ios quindi l'applicazione non è disponibile per i dispositivi android il bello di questa applicazione che ci permette di fare due cose principali che l'applicazione dj go 4 non ci fa fare cioè il waypoint e guidare in fpv quindi o meglio pilotare un drone in fpv l'applicazione si chiama mavic fpv e la cosa bella che è pure fatta da uno sviluppatore italiano lo sviluppatore si chiama michele vagnetti e lo vado anche a ringraziare perché poi vi spiego alla fine perché l'ho ringraziato cioè oltre aver fatto questa applicazione molto figa e funzionante poi dopo alla fine del video vi spiego il perché l'ho ringraziato e in questo ringraziamento rientrate anche voi che state guardando questo video quindi ragazzi seguitelo fino in fondo il video stavo dicendo l'applicazione permette di creare dei waypoint quindi creare una missione che il nostro mavic andrà a riprodurre e anche qua diciamo l'applicazione è ben strutturata nel senso che c'è da un sacco di opzioni da fare diciamo come regolazioni per il nostro mavic durante la missione adesso tra un attimo poi la andiamo a vedere insieme e l'altra cosa interessante ovviamente è pilotare il mavic in fpv spendendo ovviamente poco perché l'applicazione costa solo 11 euro e 99 se non sbaglio ma per qualcuno di voi sarà sicuramente gratis poi se seguite il video come vi ho detto prima scoprirete perché ovviamente l'applicazione un visore tipo questo che uso io un altro nel senso tanto sono meno male simili un visore che costa circa 15 euro 20 euro è veramente provate l'emozione di guidare un drone in fpv con una spesa veramente minima quindi adesso guardiamo un attimo da vicino l'applicazione sia per creare il waypoint che la funzione da fpv con mavic fpv quindi andiamo ad aprire l'applicazione l'applicazione che si chiama mavic fpv andiamo ad aprirla ovviamente a me dà l'immagine ovviamente del mavic air perché io ho sempre connesso il mavic air sono questa immagine ovviamente cambia in base al drone che avete adesso va bene non ce l'ho connesso perché tanto per fare questa cosa che andiamo a fare adesso cioè creare il waypoint non serve che sia connesso il mavic e quindi andiamo nel menu qua in basso clicchiamo sul simbolo del waypoint andiamo a creare una nuova missione ok lui ci rileva a questo punto che abbiamo diciamo in cui lui ci ha rilevato sulla mappa cosa andiamo a fare andiamo a cliccare l'ingranaggio in alto a sinistra vedete che ci si apre subito tutte le opzioni di configurazione di waypoint possiamo anche andare a chiuderlo perché possiamo anche prima ovviamente creare il waypoint andiamo premendo con il dito andiamo vedete a creare il waypoint così come vogliamo adesso sto creando ovviamente una cosa a caso bisogna premere abbastanza forte poi si sente vibrare la vibrazione si sente sotto al dito quindi sappiamo che ha preso il waypoint oltre ovviamente a vedere che è uscito il waypoint a questo punto ho creato un po di waypoint cliccando sull'ingranaggio a sinistra in alto possiamo decidere la velocità che vogliamo che abbia da un waypoint all'altro possiamo decidere se il drone venga pilotato manualmente o che punti direttamente con le opzioni che gli abbiamo dato verso il waypoint possiamo decidere se il gimbal è quello che gli abbiamo impostato nei waypoint come diciamo impostazione del gimbal o se vogliamo che il gimbal sia manovrato manualmente dal radiocomando come vogliamo possiamo decidere se alla fine della missione non succede niente quindi lui si firma in hovering dove è finita la missione se quando è finita la missione ritorna a casa se quando è finita la missione vogliamo che atterri nel punto in cui è finita la missione o se vogliamo che alla fine della missione ritorni al punto 1 sta suonando il radiocomando del mavic perché ce l'avevo acceso ok abbiamo spento dopo lo andiamo riaccendere quando proviamo l'fpv poi abbiamo questa funzione che ci permette di sapere cosa nel caso questo è importante nel caso perde la connessione con il nostro radiocomando se debba continuare la missione o se invece vogliamo che ritorni a casa quindi venga interrotta la missione vedete qua continua missione o stop emissione si sono andato a chiuderlo che babbo quindi ragazzi queste vedete quante funzioni ha adesso vi faccio vedere vedete qua a sinistra abbiamo anche per inserire un waypoint se io vado a cliccare qua e poi clicco qua vedete che ho inserito un waypoint cliccando però poi qua in alto a destra l'ingranaggio vado a modificare tutti i parametri dei waypoint o del punto di interesse creando il punto di interesse in questo caso vedete ci ho selezionato il punto di interesse il punto di interesse in questo caso è alto due metri posso col più col meno andare a aumentare la dimensione del punto di interesse quindi l'altezza del punto di interesse quindi sappiamo che la telecamera del drone dovrà inquadrare un oggetto alto due metri alto un metro da terra ovviamente o alto cinque metri quindi avrà quel riferimento con quella specie di joypad che abbiamo qua in basso a destra possiamo andare a spostare vedete il waypoint no in questo caso il punto di interesse con precisione e dargli una precisione di posizione mentre col dito ovviamente sia un po più grossolani lo si va a mettere poi se vogliamo lo possiamo regolare con questo la stessa cosa e poi se io clicco su un waypoint vedete che se scendo posso andare a spostare il waypoint con precisione tornando sempre al discorso dei waypoint vedete posso scegliere l'altezza tra un waypoint e si ciao l'altezza tra un waypoint l'altezza di un waypoint o avere altezze diverse da un waypoint all'altro o averle tutte uguali la velocità non possiamo scegliere da un waypoint all'altro che velocità debba avere il nostro mavic quindi selezionare anche velocità diverse qua come nell'altra pagina vado se voglio a inserire un punto di interesse vedete che ne posso inserire anche più di uno qua possiamo decidere il gimbal che quanti gradi vogliamo che abbia quindi da un waypoint all'altro quindi possiamo scegliere abbassando vedete dal punto zero possiamo scendere poi qua possiamo scegliere il movimento del gimbal se lo vogliamo verso il waypoint quindi punti direttamente verso il waypoint o abbia un movimento progressivo qua possiamo scegliere tutte le funzioni al raggiungimento del waypoint vedete possiamo scegliere selezionando uno al primo waypoint selezionando uno praticamente inizia a registrare se seleziono due tipo il waypoint 2 vado a selezionare il 2 vedete interrompe la registrazione se al waypoint 3 voglio mettere il 4 cosa farà lui ferma la registrazione scatta la foto al waypoint 4 possiamo scegliere di fare solo la foto quindi metteremo il 3 e così via o farli anche tutti uguali cioè cioè dare solo il comando al primo waypoint quindi poi lui continuerà a registrare cioè ognuno poi si crea la missione come vuole quindi una volta creata la missione avete visto con tutti i parametri vedete che poi qua in alto a sinistra abbiamo la distanza che lui dovrà percorrere cioè i metri che percorrerà il mavic per creare per diciamo percorrere tutta la missione e il tempo che ci metterà a percorrere la missione questo poi ovviamente il tempo cambierà in base alla velocità che andremo a se io vado a aumentare la velocità vedete che il tempo è diminuito se invece scendo vedete se la velocità diminuisce ovviamente ci metterà di più questo è abbastanza scontato però abbiamo sempre il tempo reale cioè ci fa il calcolo immediato del tempo che ci metterà il nostro mavic a fare la missione cliccando ovviamente i cestini andremo a eliminare le varie cose della missione cliccando invece sul simbolo del disco qua in alto a sinistra cosa succede la missione è pronta quindi cliccando sul missile in questo caso adesso il mavic è disconnesso se no cliccando sul missile la missione inizierebbe subito quindi il mavic decolla e inizia la missione così come l'abbiamo creata mentre se clicchiamo sul simbolo della matita con il foglio andremo a modificare la missione che stiamo facendo se usciamo invece cliccando sulla freccia abbiamo salvato la missione quindi vedete che la missione questa qua in alto 2 minuti 19 è stata salvata la posso modificare cliccando sulla missione poi cliccando aspetta che ho sbagliato cliccando ovviamente sulla missione poi sul sulla matita quel foglio la posso modificare o cliccando i tre puntini la posso eliminare o cliccando qua posso fare una copia adesso vedete che ho fatto una copia così posso modificare la copia e tenermi l'altra la prima che ho creato come missione base e fare delle copie modificare quelle quindi non vado ogni volta c'è sempre un punto di partenza e vado solo a modificare le copie che ho fatto poi tornando indietro ritorniamo la schermata iniziale a questo punto direi che la parte dei we point che secondo me è veramente fatta bene perché avete visto è semplice è curata un sacco di funzioni c'è da diventare matti nel trovare tutte le combinazioni che cioè veramente si può fare di tutto è semplice creata molto bene veramente merita l'applicazione costa 11 euro 99 veramente veramente merita però se aspettate la fine del video poi vi spiego come averla gratis ovviamente non per tutti però per qualcuno di voi potrebbe essere gratis e la può provare tranquillamente averla per sempre gratis adesso andiamo a vedere l'altra funzione secondo me veramente figa di questo di questa applicazione che è quella del dell'fpv quindi andiamo ad accendere il radiocomando del mavic vado accendere il mavic ok poi vado a prendere un visore perché basta un visore da 15 20 euro tipo questo quindi veramente un visore stupido vado a inserire il telefono all'interno del visore vedete che il mavic adesso se io vado a collegare il cavo si connette all'applicazione vedete adesso la grafica che figata questa grafica adesso del mavic che si apre ok ovviamente in questo caso è il mavic perché io mavic che vado a cliccare sul connesso ecco questa l'applicazione di volo base cioè quella che possiamo usare per volare normalmente a posto della dj go 4 per dire abbiamo tutte le informazioni tutto quello che è il volo normale se andiamo a cliccare sui tre puntini in alto possiamo andare a scegliere sotto i point o se clicchiamo sul simbolo della mascherina abbiamo la diciamo l'opzione fpv questa questa ovviamente questa schermata che è uscita adesso che possiamo andare anche a non farci più proporre è quella che ci dice che tasto dobbiamo cliccare per avere la funzione del gimbal con il movimento della testa perché possiamo scegliere di muovere il gimbal con la testa cioè se io vado su e giù il gimbal si muoverà su e giù nel caso del mavic o del mavic pro versus prima versione invece col mavic 2 si potrà muovere anche a destra e a sinistra quindi va beh in caso faccio ok perché basta cliccare il tasto fn del radiocomando e con la funzione si attiva o disattiva vado a inserire il diciamo il telefono nel visore e adesso guardate se io vado a azionare il tasto fn vedete che è venuta fuori la scritta on se abbasso il gimbal si abbassa se alzo la testa il gimbal si alza si abbasso il gimbal si abbassa e così via poi vedete che all'interno avete tutte le informazioni ovviamente adesso voi vedete l'immagine doppia perché non avete il visore una volta che l'immagine doppia finisce all'interno del visore l'immagine è unica no mica che pensate che vedete due immagini quindi vedete che avete tutte le informazioni tutte le batterie la velocità le distanze veramente tutto la connessione tutto quello che serve è all'interno di questa schermata avete anche come si dice vi segnalerà ovviamente anche diciamo la fascia rossa quando i sensori anticollisione rileveranno l'ostacolo ogni tanto mi impappino parlare di brutto vabbè comunque vedete che come funziona veramente bene quindi ragazzi vi ho fatto vedere aspettate che spengo il mavic se no fa un casino che poi si registra nel microfono vado a togliere anzi spengo anche il radiocomando se no inizia a suonare vado a recuperare il telefono ok ragazzi ho sistemato tutto ce l'ho fatta ho recuperato anche il telefono quindi ragazzi se volete provare questa applicazione veramente merita costa 11 ore 99 è sviluppata da un italiano progetto michele vagnetti quindi davvero merita tantissimo è fatta bene l'ho usata più volte funziona veramente veramente bene se volete provarla e ringrazio michele perché mi ha dato dei codici promozionali quindi alcuni di voi potranno avere questi codici avere l'applicazione gratuita quindi state attenti perché io nei commenti metterò questi codici ovviamente in descrizione nei commenti no in descrizione metterò questi codici magari oggi ne metto uno domani ne metto un altro quindi questi codici chi lo prende lo usa ovviamente è suo per inserire il codice è semplice basta andare all'interno dell'app store adesso aspettate che non ero connesso perché l'ho messo in modalità aereo per evitare tutte le notifiche mentre registravo il video sono veramente diventa un incubo vedete che già sono arrivate quindi basta scorrere questa schermata andare la schermata quella oggi scorrere in fondo la schermata ecco vedete che in fondo c'è utilizza codice cliccando su utilizza codice inserite il codice che troverete in descrizione ovviamente ve l'ho detto ne metterò credo 5 o 6 adesso vedo uno ogni tanto se andate a vedere prendete il codice lo inserite l'applicazione è vostra gratuitamente quindi ringrazio ancora Michele per questo omaggio che mi ha fatto e vi ha fatto quindi ragazzi avete visto che è semplice anche inserire il codice se volete usare l'applicazione se no se non riuscite a prendere il codice la potete acquistare costa 11,99 ma merita merita davvero quindi ragazzi soprattutto perché provare l'FPV comunque è una cosa veramente emozionante e comunque non si spende tanto perché anche un visore così 15 euro va benissimo ah dimenticavo c'è anche una versione per spark cioè da questa applicazione c'è anche una versione per spark quindi che fa più o meno le stesse cose però bisogna prendere quella diciamo proprio per spark sempre anche quella però disponibile solo per ios quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate come solito un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video ciao